. Da Tokyo, risultati e programma. . Il Japan Women's Open Tennis accoglie il circuito femminile dopo le due settimane a Flushing Me a Doves. Un cast interessante, giocatrici in cerca di rilancio. . Cristina Mladenovic, presente grazie ad una videocard, deve cancellare una deficitaria porzione sul cemento. Gioca sul campo n.1, al termine del confronto tra la serba Krunic e Chimikodate. . . 4 eliminazioni al primo turno per la Transalpina, una sequenza da cancellare. Trova la FET, reduce da tre turni di qualificazione. . Apre il programma il match tra Ozaki e Linette, da seguire il derby nipponico tra Nara e Osaka. Terzo turno per entrambe a New York, prestigiosa affermazione, per la Osaka, con la Kerber. . . . Nel cammino della Nara, il sigillo con la Kuznetsova, 2T. Un precedente, a Birmingham nel 2016. . . Sul campo n.3, la MSCILE incrocia la racchetta con la Kovinik, proveniente dalle qualificazioni, altro derby giapponese, protagoniste in questo caso Kato e Ibino. Completano il quadro Stosura e Sorribbe Stormo. . 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